E' stato difficile, no, da dieci anni fa, trovare il coraggio di andare in Africa così come volontario sempre. E' stato stancarsi di, per esempio, la finestra che deve avere il mondo rifassa e tante cose che non ci stanno perdendo. Da quel punto, da quell'atto di coraggio, di fede, si è sviluppato un incredibile percorso, il quale ti ho messo, e che sta coinvolgendo centinaia di persone. Per farvelo credere, in 8 anni abbiamo costruito una scuola per 150 bambini in centrale, che avevano bambini, poi ho messo a una terra del poliambulatorio, un piccolo ospedale che si mantiene con energia di bandelli colari. Per 5 anni stiamo mantenendo i 14 persone che lavorano lì, tutti i centrafici, dal medico allo portantino. La portantina prende 50 euro e mantiene 11 figli. E' un'idea quella di adottare il personale giù, che forse è abbastanza innovativa. Pensate a quanto spendiamo il governo italiano, quanto spendono gli immigrati dall'Africa che vengono da noi. Quanto 10-100 euro si daranno uno stipendio per far mettere sulla loro terra e guardare i loro ragazzi, i loro figli che crescono. Non contenti di questo, abbiamo creato una maternità a Zanzi, un parto che è bellissimo, turistico, ma il popolo vive la stessa miseria, la stessa bisogno, come forse incentrati. In un anno abbiamo costruito questa maternità e adesso a giugno ci sarà anche l'anestesista, a parte con noi, che ha fatto il corso, per poter cominciare a fare i baci di cesare. Pensate che un bambino ogni quattro muore, il parto cedato non può espletare. Abbiamo anche regalato un'ambulanza per i villaggi vicini per portarvi subito all'ospedale. Inoltre, per un percorso di fede ho fatto anni fa un missionario saveriano in Amazzonia, sono andato qui con mia moglie, abbiamo visto l'angessità, necessità diverse dall'Africa, ma l'amistà più grande è quella morale. Insieme abbiamo iniziato a costruire una scuola, che si chiama un dopo scuola, ma anche un centro di informatica, per togliere dalla strada molti ragazzi. E infatti lì per valutare è molto grande. In ultimo, ma non per ultimo, siamo andati in Bhutan, abbiamo conosciuto un lama, questo non porta nessuno, noi ai cattolici abbiamo costruito l'ospedale, non la verità, ai musulmani. Abbiamo l'idea di andare in una regione più estrema del Bhutan, in 19 Bangladesh, e lì abbiamo messo la terra per costruire un centro medico. Ultima, in procinto di cominciare, un portello di appoggio per via che è disadattato qui a Roma. C'è un bel fuolo e pronto a corso, c'è un'estrata a disposizione in un ambulatorio, e lì andremo, per chi non può andare in paesi lontani, e tutti i volontari che vogliono sporcarsi le mani, possono andare lì, da una mano ai disadattati, dagli altri detenuti, alle ragazze madre, ai homeless, eccetera, eccetera. Questo per dirvi come da un piccolo punto, dieci anni fa, o due anni fa, è nata poi questa rete meravigliosa di persone che amano senza avere niente in cambio. Noi siamo molto ottici, come sapete, e il fatto che non c'è nessun pagamento ai volontari, noi abbiamo un'emissione, è un'emissione nostra, e questo evidentemente ci ripaga le tante delle persone. Come potete aiutarci? Avete visto il calendario, fatto da noi ogni anno, e fuori ci sarà il nostro amico Marco Bianchi, il nostro socio, che vorrà ricevere le vostre offerte. In più, c'è circa un mille, potete riscare, e l'ultimo, abbiamo fatto un libro bellissimo su Butan, un libro fotografico, che ho donato, applausi un tempo fa, e su Butan ci sta pochissimo, è un scopo anche culturale, e un'offerta, e potete portarlo a casa, perché sono veramente molto bello. Io vi ringrazio, grazie per aver guardato.